e allora siamo pronti una serata un po' strana sai ho dimenticato la cuffia ecco adesso adesso mi mi sento bene prima non mi sentivo bene ma dai questo personaggio questa sera ci ha galvanizzato ci ha creato già un po' saranno le anime che stanno le anime del personaggio che stanno anche qui in studio bene bene buonasera buonasera a tutti benvenuti ad una nuova trasmissione di In Viaggio Con qui in diretta dagli studi di Radiopolo con Mariangela Salsano ed Enrico Sorrentino e allora questo personaggio è davvero guarda io rileggendo un po' tutta la sua vita qui diciamo che ci ha sconvolto un po' è incredibile che com'è fatto a fare di tutto e di più diciamo che una vita non basta per fare tutto quello che ha fatto lui sì veramente è un vulcano ha avuto anche la capacità di potersi cioè si è sdoppiato si è creato delle personalità multiple direi perché non si è fermato su niente si è interessato su tutto ha in qualche modo portato la pazzia nell'arte però in senso sicuramente in senso buono è stato sicuramente adesso vedremo sin dalla sua nascita ha avuto sicuramente delle influenze particolari un vissuto e anche dei dolori che hanno come dire segnato le tappe poi di tutta la sua esistenza non solo personale ma anche artistica è morto non tantissimi anni fa quindi c'è molto di lui anche sul web come interviste io ho veramente ne ho viste diverse e come dire la sua presenza aveva sicuramente una presenza che già parlava per lui e lo identificava assolutamente che lui marcava e cavalcava senti io ridegendo attraverso la biografia ho visto già che il suo percorso iniziale è stato quello di già di soffrire per la perdita innanzitutto parliamo di stasera di Salvador Dalì non ricordo non l'abbiamo detto no forse l'abbiamo solo prima accennato in diretta dal web da facebook stasera parliamo di Salvador Dalì e quindi prego Enrico a te la parola no dicevo rileggendo un po' proprio i suoi primi primi anni lui in effetti è un po' la fotocopia del fratello perché il padre vede diciamo diciamo in Salvador Dalì questa realtà addirittura della reincarnazione perché il fratello muore nove mesi prima per meningite quindi la famiglia resta scossa e allora poi arriva lui il padre addirittura dopo un po' lo porta sulla tomba del figlio e dice quello morto e dice tu sei la reincarnazione di questo di questo Salvador che è molto cioè già una vita un po' strana allora innanzitutto diciamo che lui nasce in Catalogna a Figueres l'11 maggio del 1904 da un padre notaio e da una madre che comunque adorava e sicuramente nasce già in una famiglia bene ecco anche anche il padre era insomma quindi un notaio un professionista anche con delle origini diciamo nobili e come detto tu nonostante lui avesse una sorella di tre anni più grande di lui c'era stato proprio prima di lui questo fratello che era morto di meningite e quindi i genitori ma secondo me fu soprattutto la la figura del padre quasi a investirlo di un ruolo quasi di predestinato dove lui sicuramente si sentì un po' diverso o sicuramente con una missione superiore infatti lui scrive quando parla proprio di questo delirio di essere la reincarnazione del fratello lui dice ci somigliavamo come due gocce d'acqua ma rilasciavamo di flessi diversi probabilmente lui era una prima versione di me ma concepito in termini assoluto e voglio dire lui passò ore anche a pregare su questa tomba del fratello quindi vedi come noi sempre poi vediamo le tappe fondamentali della formazione di un essere umano in generale poi di tutti questi grandi personaggi che sono passati alla storia chi per un motivo e chi per un altro c'è sempre nell'infanzia qualcosa di particolare perché è proprio ecco in questa come dire nella lotta nella lotta soprattutto interiore con se stessi che poi c'è il germe spesso anche della genialità come è avvenuto in questo caso c'è da dire che comunque con il padre non ha mai avuto un buon rapporto c'è stato sempre uno scontro molto molto forte anche poi successivamente nel suo lavoro artistico nel suo percorso e anche nelle sue scelte personali e quindi perché il padre era molto rigido quindi aveva una sua visione della vita della personalità diciamo del figlio parliamo comunque di una Spagna molto cattolica no? estremamente rigida su certi su certi argomenti quale era quello era quello del insomma cattolico e quando la madre muore nel 1921 di un tumore da lì ha il dolore diciamo forse più grande della sua vita infatti lui dice da lì aveva solo 16 anni e dice è stata la disgrazia più grande che mi sia capitata nella vita la adoravo non potevo rassegnarmi alla perdita di una persona su cui contavo per rendere invisibili le inevitabili imperfezioni della mia anima io forse ho letto poche righe così belle dette ad una madre veramente questo fa capire l'amore di questa donna che forse riusciva a placare queste inquietudini giovanili di di Salvador Dalì quindi perdendo la madre un po' finisce no? questa questa diga che un po' lo preservava dal mondo lui inizia comunque un percorso scolastico perché diciamo la mano la mano dell'artista si lui sin da bambino insomma ha subito alla Picasso insomma ha subito dato testimonianza del fatto che comunque aveva un talento e quindi dopo aver però questo carattere viene fuori comunque anche all'interno della scuola inizia ad avere problemi viene accusato spesse volte di aver fomentato delle agitazioni viene anche addirittura espulso quindi è un carattere irrequieto questo non c'è ombra di dubbio ma sicuramente un anarchico sicuramente aveva una visione sicuramente un uomo che non accettava le regole imposte dall'esterno se non quelle autodeterminate dalla propria convenzione e in tutto ciò un contestatore un ribelle infatti quando si si iscrivesse all'accademia di belle arti addirittura non volle essere esaminato dalla commissione lasciò l'abbandonò perché diceva che non c'era nessuno in grado con una preparazione tale di poterlo giudicare quindi questo ti fa capire anche un po' questa questo narcisismo sì lui era portato all'estremo diciamo che lui era innamorato veramente di se stesso però forse dietro questa esaltazione totale della sua persona chissà potrebbe anche essere c'è stata una grande fragilità poi sai quello che noi mostriamo al mondo è sempre quello che scegliamo di mostrare in effetti proprio dietro questo evento viene espulso dall'accademia quindi non sostiene nemmeno l'esame finale di questo suo percorso scolastico quindi è una vita molto molto sopra sì anche in questi anni comincia a vestirsi anche molto strano un po' da dandy no un po' da dandy alla Oscar Wild dandy inglese con queste calze lunghe i calzoni alla Joava le basette lunghe i capelli lunghi con queste giacche molto avvitate insomma anche nell'ambigliamento incomincia insomma vuole essere particolare a tutti i costi vuole essere vistoso vuole vuole essere diverso vuole la come dire un posto vuole vuole cercare a tutti i costi un suo linguaggio che sia suo e lo identifichi e in effetti questo è avvenuto perché io sinceramente non me ne ricordo di artisti così stravaganti così particolari come è stato Salvador Dalì anche questi baffetti che poi lui si fa crescere e che in onore del grande maestro del 600 Diego Velasquez poi rimarranno come dire il suo vezzo per tutta la vita è stato proprio un personaggio che comunque è stato citato e sottolineato in modo positivo anche da Picasso da Miró quindi avevano già notato questa sua capacità come abbiamo detto il novecento l'inizio insomma del ventesimo secolo è stato un momento di grande rivoluzione culturale non a caso c'è questa grande come dire questo grande numero di artisti come abbiamo visto Picasso Freud Einstein Dalì cioè c'è la ricerca come dire in tutti i campi di un nuovo modo di comunicare e l'arte è soprattutto comunicazione è comunicare attraverso attraverso immagini attraverso la raffigurazione della realtà e lui che cosa diventa mentre Picasso studia come abbiamo visto un nuovo una nuova lettura no della delle dimensioni delle proporzioni delle immagini col cubismo quindi geometralizzando lo spazio invece Dalì fa un'altra cosa crea il surrealismo cioè che cos'è l'arte diventa uno strumento di comunicazione psicologica cioè l'inconscio viene messo sulla tela contro il dominio della ragione e da qui questi quadri che ad una prima lettura possono sembrare assurdi no perché il mondo dei sogni è un mondo estremo è un mondo dove tutte le cose vengono esaltate però proprio attraverso questa questa rappresentazione si arriva poi alla verità tutto questo parlando di surrealismo praticamente mette in discussione il rapporto con il padre perché il padre non vede di buon occhio proprio questa sua tendenza anche un po' dissacrante diciamo sicuramente sì perché proprio questa sarà l'azione è il motivo che metterà proprio la rottura finale con la famiglia e con il padre perché anche il rapporto d'amore che ha con questa donna che si chiama Gala che è più più grande di lui di un dieci anni io ho visto diverse foto una donna secondo me da lì in questa donna ritrova un po' la figura materna perché è una donna più grande di lui una donna già sposata una donna con un figlio di dieci anni che diventa anche la sua manager anche la sua colei che si occupa poi della sua della promozione dell'immagine di Dalì e musa ispiratrice io penso che questi due hanno avuto un rapporto che va al di là di ogni come dire di ogni schema no perché un po' come Frida Kahlo che abbiamo visto questi rapporti che non come dire non si basano su una esclusiva ma si basano su una condivisione totale io ho visto oggi un'intervista di Amanda Lir che è stata l'amante di Salvador Dalì per circa 15 anni che diceva che nel momento in cui lei conobbe Dalì Dalì disse devo farti conoscere a mia moglie perché devo farti conoscere mia moglie perché è importante che tu piaccia anche a lei e la fece gli fece mettere un vestitino con le gambe scoperte e quando arrivò la moglie gli feceva una sorta di defilè davanti a lui disse guardala guardala com'è bella e in effetti ebbero una sorta di menage a trois per 15 anni e anche la stessa gala aveva altri uomini cioè loro condividevano tutto anche la loro libertà e io sono sempre affascinata da questi tipi di rapporti che vanno oltre ogni convenzione sociale perché credo che qui ci sia un matrimonio veramente di anime anche perché loro sono stati una coppia unitissima fino alla morte quindi come dire anche nel loro privato anche nel loro modo di rapportarsi all'amore questi grandi personaggi non sono stati come dire sicuramente usuali o banali ma veramente sopra le righe diciamo che hanno forzato sempre un po' la mano perché poi diciamo andare un po' oltre può risultare anche anche un modo per per distinguersi per mettersi sempre in luce questo suo continuo rapporto con questa sovraesposizione e lo porta comunque ad essere sempre oltre quelli che sono poi le realtà e come dice il padre questa moralità che lui un po' ha svenduto sia per seguire questa realtà dei surrealisti ma anche perché poi dopo dove capita proprio la rottura e perché il figlio praticamente aveva fatto un disegno che era del sacro cuore di Gesù Cristo e c'era una scritta provocatoria allora lì il padre lo richiama perché deve comunque pubblicamente smentire di questa sua posizione di questa cosa che lui però si rifiutò si rifiutò e qui iniziò il rapporto la rottura però sai Enrico io penso che quando questo a prescindere da lì quando si 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 cerca un nuovo modo di come dire un nuovo linguaggio di comunicazione a qualsiasi livello si debba un po' distruggere mettere tutto in discussione no è come fare per fare un nuovo giardino devi alzare tutta la terra e poi rimetterla a posto e ripiantare le piante forse la distruzione è necessaria per costruire vedi anche Picasso in qualche modo è stato così questi grandi uomini d'arte se così li vogliamo chiamare hanno comunque dovuto mettere tutto in discussione per creare un nuovo linguaggio e hanno forse anche pagato questo prezzo di essere sovraesposti di fare cose contro le regole della morale del tempo penso che sia un passaggio sicuramente anche usato però necessario perché senza questa rottura a tutti i costi forse non si non si può mai generare qualcosa di nuovo o di veramente nuovo e comunque da lì è assolutamente originale arrivare comunque ad una rottura di sangue se così possiamo dire perché andare a tagliare i ponti come si dice con la famiglia o con la realtà che ti ha generato è qualcosa di molto forte perché la nostra storia parte da una famiglia e dalla famiglia forse la dobbiamo mettere anche in discussione se vogliamo cambiare totalmente sai ci sono questo secondo me a prescindere da una parte chi continua chi preserva la cultura familiare il modo di fare e chi invece lo ripudia completamente per poi creare qualcosa di nuovo sono due atteggiamenti secondo me che però fanno parte sempre della nostra evoluzione di quello che vogliamo diventare anche rinnegare tutto è un modo per portarlo avanti per dire io non sono quello che è stato mio padre beh ovviamente quando parliamo di artisti hanno una loro visione hanno una realtà che forse è un po' fuori come abbiamo detto ogni regola diciamo anche la verità lui è stato a differenza di tanti che poi come dire hanno solo da morti hanno beneficiato del del fattore economico da lì è stato uno che è stato una rock star possiamo definirlo uno sempre sul pezzo io penso che se fosse nell'era di fosse adesso nell'era di di facebook twitter e tutti questi social sarebbe uno che sta sempre a sempre presente insomma e comunque lui ha molto commercializzato anche la sua immagine perché infatti non si è limitato solo alle tele alle sculture ma ha fatto veramente di tutto quest'uomo si è ha collaborato col cinema con i grandi anche del cinema italiano come Visconti come Fellini con Walt Disney ha fatto dei cortometraggi dei costumi per 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 il teatro ha collaborato con la moda con con Christian Dior ha creato delle non so delle delle boccette per dei profumi addirittura quel famoso oggetti di design il famoso divano a bocca è una creazione di Dalì sì ma ci sono diversi protagonisti di questo tempo che comunque sono grandi non non alzando troppo l'asticella di questa visibilità estrema quindi non è che la sua realtà di essere così particolare sopra ogni regola lo definisce un artista gli artisti sono fatti semplicemente di di arte pura plasmata e non certo perché sono così estrosi e vogliono comunque essere sempre pronti e sempre in prima fila quindi aveva una personalità sicuramente che andava in quella direzione ma lui l'ha cavalcata quella personalità sicuramente ha generato un grande artista io credo ci sono tanti grandi artisti che al di là della della sovraesposizione sanno dare tanto lui è stato un protagonista perché ha cavalcato molto l'immagine come hai detto tu oggi in un ambiente social come oggi sarebbe stata la superstar di questo di questo mondo perché sarebbe a lavorare bene poi faceva sai faceva marketing di se stesso e questo sicuramente è stato quindi anche imprenditore un po' della sua immagine perché quando si presentava a qualche evento con i levrieri russi oppure col suo gatto pardo al guinzaio oppure con questi cappelli esagerati o messo in un cubo di vetro portato a spalla da uomini vestiti in bianchi cioè faceva delle entrate alla lady gaga no mi dà questo tipo di se lo vogliamo portare a un personaggio moderno cioè essere era una prima donna è una prima diciamo che era una figura che non poteva passare inosservata perché penso che lui avesse si nutrisse anche di questo ci sono persone che si nutrono di questo di questo modo di essere ci sono tanti che non ne hanno bisogno e forse questo mi fa anche pensare ad una fragilità perché sai quando tu ti devi mostrare per forza sempre tanto quasi sei drogato della tua immagine che porti all'esesperazione è perché si innesca un meccanismo perverso di consenso come avviene oggi in molti casi nei social in effetti sì cioè lui era uno che il mi piace lo voleva prima che esistesse il mi piace questo fatto di essere sempre sempre presente sempre quando arrivava lui tutti si aspettavano ecco che cosa si inventerà Salvador Dalì stasera ecco ritorniamo al discorso che lui era un personaggio che doveva comunque dare dare continuamente perché tutti si aspettavano qualcosa da lui e lui si è messo in gioco cioè lui alla fine è stato comunque nel sistema generale è stato una grande una pedina importante quando si è ascoltato questa intervista di Amanda Lear che ha avuto un rapporto comunque di 15 anni diceva che lui nel privato era una persona completamente diversa molto dolce molto spogliato da questa da tutto questo questa armatura no di di eccentricità era anche un uomo diverso quindi io credo che Salvador Dalì è stato anche come dire a un certo punto poi sai l'uomo è l'immagine che si crea no questa che poi alla fine tu rimani quasi vittima di questa maschera che decidi di portare questo avviene un po' nella vita di tutti noi non solo in questi lui ha capito che il personaggio che si era diciamo quell'alone che si era creato tutto intorno era interessante era una cosa da da continuare a portare avanti perché alla fine quello ha portato diciamo quella grande visibilità che lui era continuamente diciamo alla ricerca ha portato avanti fino alla fine quindi non si è mai sottratto ecco diciamo all'obiettivo anzi lo ha fatto sempre in un modo molto estroso proprio per richiamare continuamente quell'attenzione di tutto di tutta l'opinione pubblica poi ovviamente ma al di là della pittura lui ha fatto tutto diciamo che forse ha toccato tutte le realtà che poteva toccare tutta l'arte figurativa in assoluto ma parliamo da sceneggiature regie pittura design moda non so cosa altro potesse fare fotografia si tutto fotografia tutto 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 e quindi una persona su questo non si è risparmiata ha messo in atto proprio quell'estro proprio di dire io devo anche infrangere delle regole per riuscire a formare e a dare a dettare anche degli indirizzi indirizzi nuovi però non dobbiamo dimenticare che ha creato dei capolavori assoluti cioè alla base c'era il grande artista se tu pensi alla persistenza della memoria no? questo quadro dove ci sono che è famosissimo del 1931 dove ci sono questi orologi no? che quasi si come dire si squagliano possiamo dire così perché la la memoria attraverso il tempo si come dire si perde si perde questa immagine che si dissolve si dice si dissolve quindi anche questa relatività del tempo no? infatti era il periodo in cui Einstein parlava della relatività del tempo questo suo questo suo linguaggio simbolico no? nelle sue opere l'uovo la conchiglia il corno di rinoceronte le formiche le tigri insomma c'è comunque una genialità cioè non era solo esclusivamente prodotto di un marketing c'era comunque alla base diciamolo perché è anche giusto dirlo un grandissimo talento no su questo si sono d'accordo condivido pienamente tutta la sua capacità di riuscire ad arrivare alla diciamo a sottolineare quei momenti che forse a volte sfuggono lui è riuscito proprio a mettere in evidenza che il tempo è semplicemente qualcosa che che cavalca comunque in ogni caso e io sono un momento che lui voleva vivere estremamente ogni attimo della vita proprio perché questo tempo che non ti dà non ti dà respiro non ti dà spazio il tempo passa e tu inevitabilmente devi soccombere al tempo ed è anche molto moderno è anche molto moderno ormai in questo si parla tanto del fatto che il tempo sia la risorsa più importante che abbiamo che il tempo non sia uguale per tutti e che spesso il tempo ha la stessa valenza per tutti Enrico non lo so dipende da come lo viviamo dipende da bisogna capire cosa ognuno si aspetta dalla vita perché le aspettative sono quelle che poi possono sentenziare oppure sottolineare il passaggio del tempo le cose che fai le cose che vorresti fare oppure sei semplicemente lì ad aspettare e quindi il tempo passa così tranquillamente senza che alla fine lui il suo tempo io penso che l'ha speso bene lui il suo tempo lo ha impiegato in ogni in ogni attimo lo sai una cosa che leggevo che lui si rifiutava di pagare le sue segretarie e gli regalava le sue opere e così le ha rese miliardarie questo è stato un buon investimento per le segretarie comunque beh su questo guarda poi un'altra cosa che oggi ho letto che era innamorato dell'Italia ed è stato a Villa Cimbrone a Ravello ma chi è che non è innamorato dell'Italia mi devi dire trovami uno forse gli italiani amano poco l'Italia forse gli italiani hai messo proprio il dito nella piaga perché siamo noi che non ci rendiamo conto di vivere nel posto più bello del mondo e invece tutti quelli che vengono qui ad esempio lui era innamorato dell'arte rinascimentale di Raffaello lui voleva diventare il Raffaello del ventesimo secolo di Michelangelo e infatti poi c'è anche diciamo nella sua fase più matura riprende anche proprio i temi i temi del del rinascimento c'è stata una bellissima mostra non ricordo adesso dove proprio di questi sui acquerelli dove lui parlava della divina commedia riprendeva diverse opere di Michelangelo quindi era veramente attratto dall'Italia e la costiera amalfitana pare che fosse un posto dove lui amava venire spesso e come dargli torto guarda lui cercava sempre comunque era un grande stimatore delle bellezze del piacere lui la bella vita diciamocelo francamente e lui la cosa che si infatti lui viveva in delle suite lussosissime non ha mai rinunciato al piacere assolutamente anche Gala è stata sua moglie è stata la compagna di vita gli ha regalato un castello era molto accorto a lei che era una donna possiamo dire veramente non bella io ho visto delle immagini diciamo quello che ha saputo generare all'interno dell'artista probabilmente aveva delle bellezze nascoste che dire no io penso che lei per lui fosse il punto fermo la compagna il matrimonio spirituale quello diciamo che va oltre il corpo e infatti quando muore lui si ritira si ritira di nuovo in Catalogna a Figueres a vita privata smette quasi smette quasi di dipingere insomma pare che ci siano stati addirittura dei tentativi di suicidio che abbia preso una la stanza è andata a fuoco insomma si è capito bene c'è stato poi un finale molto rocambolesco devo dire ma diciamo in linea un po' con il personaggio però c'è da dire una cosa che nonostante le sue realtà queste visioni un po' fuori da certi schemi lui comunque sposa la moglie al di là di quello del matrimonio civile sposa anche nella forma religiosa è stato un grande amore quello con Gala assolutamente quindi ha fatto un passaggio che è importante non si è tenuto fuori da certi schemi nonostante lui ha visto sempre una realtà che guarda oltre forse questo è il punto che lui voleva sottolineare non bisogna fermarsi ma guardare oltre ma sai forse proprio in questo suo messaggio estremo non voleva poi forse rinnegare tutto il passato ma mandare un messaggio come dire che si può andare come hai detto ben tu anche oltre è stata una bella cerco di immaginarla ma è difficile è difficile immaginare perché guarda presentarsi ad esempio ad una conferenza dove doveva presentare un libro non ricordo di cosa doveva parlare di un quadro e si presenta proprio con una tuta da palombaro che doveva parlare proprio con quella con la gegio in testa e una secca da bigliardo dei levrieri insomma è una figura che animava in modo incredibile quando arrivava lui si animavano le feste qualsiasi realtà prendeva prendeva corpo e lo facevo ovviamente per attirare l'attenzione su di sé ma quello sai io penso che anche il modo in cui noi ci presentiamo come ci vestiamo è comunque un modo di comunicare stiamo comunicando comunque qualcosa stiamo comunicando un disagio una voglia di attenzione una voglia di passare inosservati se ci mostriamo in maniera dimessa comunque anche l'abito è una forma di comunicazione come le donne noi donne a volte amiamo essere struccate con la tuta io per esempio spesso ci sono giorni in cui non amo gli sguardi quindi cerco di come dire di essere il più semplice possibile a volte invece amo essere più più femminile più preparata proprio perché forse sto comunicando qualcosa di diverso e questo è molto umano fa parte di tutti noi sia dell'uomo che della donna io ho qui un po' di frasi di Salvador Dalì che mi sono piaciute e te le voglio leggere non dipingo un ritratto che assomiglia al modello piuttosto è il modello che dovrebbe assomigliare al ritratto Picasso è un genio come me Picasso è un comunista io no infatti lui viene cacciato dal movimento surrealista perché non prende delle posizioni nette rispetto poi al fascismo e al nazismo questo non l'abbiamo detto perché lui rivendica come dire la neutralità dell'artista mentre sappiamo che tutti i surrealisti erano dichiaratamente comunisti quindi questa sua affermazione si va proprio a inquadrare in questo contesto quelli che non vogliono imitare qualcosa non producono nulla questa anche mi è piaciuta perché l'imitazione è comunque una forma di creatività perché è dall'imitazione noi attraverso l'arte la prima cosa che facciamo è imitiamo la natura e quindi tutti quelli che vogliono trovare un proprio linguaggio incominciano prima di tutto a copiare questa tragedia grandiosa che chiamiamo arte moderna restano ancora pochi paesaggi e si convergono in tutti qui la Catalogna è il centro del mondo infatti comunque lui è molto ama profondamente la sua terra natia tanto che alla fine si insomma si rifugia lì dove è nato che cos'è il cielo dove si trova il cielo non si trova né sopra né sotto né a destra né a sinistra il cielo esattamente nel centro del petto dell'uomo che ha fede chi ogni giorno vuole fare carriera deve essere un po' cannibale credi che finché la terra è rotonda potrai trovare ovunque paesaggi naturali può una faccia rotonda avere più di un naso il disegno e la sincerità nell'arte non ci sono possibilità di imbrogliare o è bello o è brutto il meno che si possa chiedere ad una scultura e che stia ferma il segreto del mio prestigio rimarrà un segreto l'unica differenza tra me è un pazzo che io non sono pazzo non avere paura della perfezione non la raggiungerai mai questa è veramente molto bella eh sì io ho trovato anche delle citazioni per quanto riguarda ti ricordi abbiamo parlato di Orwell sì sì Orwell dice una cosa molto interessante che sintetizza un po' tutto il personaggio e dice quando in Europa si avvicinano le guerre egli ha una sola preoccupazione come riuscire a trovare un posto dove si mangi bene e da qui scappare in fretta se il pericolo si avvicina troppo quindi era proprio uno che ha la ricerca del piacere assoluto un po' dannunziano possiamo dire così io lo vedo un po' dannunziano molto dannunziano sicuramente vabbè fanno parte un po' di quella di quella di quell'epoca di quel gruppo di amici che si ritrovano e concordano un po' su tutto dove il piacere diventa come dire l'inutre ecco diventa un elemento inscindibile della loro vita ma questo è anche come dire non c'è anche niente di male il piacere fa parte è comunque quello che fa parte anche il dolore il dolore e il piacere come diceva Platone sono fratelli siamesi e vanno vanno a braccetto in ogni cosa certo il piacere non lo si apprezza se non conosci il dolore quindi sono due cose che vanno insieme e non possono essere slegate tra loro allora in chiusura ti voglio solo dire l'ultima frase che proprio poi mi dirai se anche tu sei d'accordo su questa frase fai anche tu qui sotto le mattine credo penso mi dirai e allora cosa diceva Salvador Dalì ogni mattina quando si svegliava allora lui dice ogni mattina appena prima di alzarmi provo un sommo piacere quello di essere Salvador Dalì quindi vuoi dire che io la mattina quando mi guardo allo specchio dico evviva sono io che piacere buongiorno mi presento sono sono piacevolmente rapita di questa mia grande personalità e adesso mi preparo diciamo che si amava si amava fortemente sicuramente il primo amore che ha perso se stesso poi le altre persone hanno alimentato ancora di più questa forma ma guarda questo in assoluto non è negativo amare se stessi e avere un'autostima ovviamente poi quando si va al delirio di insomma onnipotenza come sappiamo è l'inizio di tutti i mali insomma sicuramente molto lontano da un Marco Aurelio o da altri grandi pensatori della storia però è anche è un'interpretazione ognuno porta il suo modo di vivere su questa su questa terra in questo viaggio chiamato vita e lui ha portato questo punto di vista ognuno dà un contributo che poi sicuramente ha dato uno slancio ha dato una spinta in certe direzioni però è nel contesto generale dove c'è sicuramente una forma che sia positiva o negativa ma ha contribuito a suo modo ha contribuito a dare un segnale a dare anche degli insegnamenti sia nell'ambito artistico nell'ambito del pensiero perché poi possiamo anche sottolineare questo suo comportamento troppo troppo sopra diciamo le forme convenzionali ecco però lui ha segnato proprio un modo di essere che può essere discutibile però come hai detto sicuramente nascondeva delle problematiche io credo che nella prima infanzia quella realtà che ha vissuto l'ha fortemente toccato non dimentichiamo che il padre lo ha completamente escluso poi dalla famiglia addirittura lo ha è tolto tutto non gli ha dato niente cioè tutta l'eredità è stato diseredato praticamente da questa famiglia tanto è vero c'è un aneddoto giusto è un po' diciamo non molto bello però è proprio in linea con il personaggio di Salvador Dalì l'ho letto anch'io che è un gesto molto crudo e molto forte molto crudo molto forte anche un po' così non è facile anche da raccontare penso tagliare quel cordone umbilicale in questo modo sì perché si presentò al padre con un preservativo con del liquido seminale suo dentro e disse tieni questo è quello che che ti dovevo da questo momento non siamo più padre e figlio questa è proprio un'azione forte è un gesto molto molto forte al di là del lato crudo veramente bruttino posso dire insomma molto sicuramente d'effetto ecco diciamo nel suo stile nel suo stile che però parla di una tragedia perché essere rinnegato da un padre e rinnegare il proprio padre sì stiamo parlando di uno dei dolori forse più più grandi che è un essere umano quando non ci si sente amati forse da e da questa mancanza di amore che poi nasce questa voglia assoluta sempre di approvazione di voler essere il più di voler stare al centro dell'attenzione guarda nasce tutto da lì sempre da come siamo stati amati o non amati penso di sì e così la pensava ha pensato anche ritornando in chiusura con Orwell perché guarda caso questo pensiero di Orwell va a sintetizzare proprio quello che abbiamo quello che hai detto poc'anzi perché lui che cosa dice dice bisognerebbe essere capaci di tenere presente che da lì è contemporaneamente un grande artista è un disgustoso essere umano una cosa non esclude l'altra in alcun modo la influenza quindi questo suo modo di essere ha generato il grande artista e il grande artista ha ripagato poi l'uomo che probabilmente aveva con sé un bagaglio anche di sofferenza che si è portato dietro anche fino alla fine una fine molto molto diciamo brutta perché come hai detto tentativi di suicidi poi ha avuto un cocktail di farmaci che probabilmente lo hanno reso inabile non poteva più fare niente diciamo probabilmente si era ridotto quasi ad una realtà ad una larva quindi questo grande artista che muore quasi in una forma che non è più lui o meglio quello che è stato non è più il grande artista da lì questo è stato un prezzo da pagare molto alto per una grande figura che per tutta la vita ha messo sempre in primo piano questa visibilità questa personalità questa grande forma di questo grande personaggio estroso di essere sempre il primo un passo avanti agli altri ad ogni costo ad ogni costo purtroppo ha fatto e poi il costo arriva il prezzo arriva sempre c'è sempre da pagare qualcosa alla fine quindi lavoriamo bene e cerchiamo di amare il più possibile perché questa vita resta sempre comunque l'unica e sola nostra chance per dare per lasciare qualcosa a qualcuno la nostra sicuramente testimonianza d'amore bene io saluto tutti i nostri radioascoltatori e saluto te Enrico grazie per questo splendido viaggio grazie a te Mariangela grazie a tutti gli amici grazie anche a Matteo che in regia ci ha assistito e prossimo appuntamento un nuovo personaggio sicuramente che sarà beh lo scegli tu perché lo sceglie io sì ormai insomma ti ho un po' monopolizzato la scelta troviamo di qualcosa più ecco di non essere troppo sopra ritorniamo un po' a volare bassi no il nostro piacere almeno come guarda il piacere è conoscere proprio questi personaggi che sono visti un po' nell'immaginario pubblico quello che ci viene portato un po' dalla stampa dalle immagini televisive poi entri nei dettagli quelle cose che sono sempre dettagli che ti raccontano di più perché io noto sempre una sofferenza in tutti questi grandi c'è sempre qualcosa che le ha segnati sicuramente ma la sofferenza è la matrice poi di ogni come dire di ogni grandezza è sempre la sofferenza non c'è niente da fare quando nella vita non hai sofferto non hai vissuto seguite Radio Polo sicuramente grande piacere di stare insieme e della sofferenza ne facciamo solo una chiacchierata una forza brava una forza buonasera a tutti sì